Sì sì vediamo tutto. Perfetto. Allora la piattaforma appunto si chiama Snap for City. L'idea che c'è alla base della piattaforma è quella di una implementazione rapida di sistemi di supporto alle decisioni con la possibilità anche di fare poco coding e se necessario ovviamente anche definire in dettaglio tutto quello che è la la parte di business logic di vario tipo dalla semplicemente la logica di interazione ai data analitiche più profondi che uno si possa immaginare. Quindi l'architettura della piattaforma è rappresentata in questa slide. Noi connettiamo tutte le aree diciamo che possono insistere sulla città e anche in ambito industriale con un canale bidirezionale in modo da acquisire dati e produrre dati riguardo a sicurezza, ambiente, edifici, energia o traffico, sistemi di trasporto, informazioni satellitarie o quant'altro. Tutti questi dati possono essere aggregati nella piattaforma e vengono inseriti in uno storage big data e anche con un'architettura che permette con questi aspetti che sono sulla sinistra, permette di creare un expert system sulla base di una knowledge base e di un'ontologia che rappresenta tutte le relazioni che ci sono nella città, dai segmenti stradali all'arredo urbano, ai servizi, al traffico, a tutto quello che potete immaginare. La piattaforma permette di integrare applicazioni di terze parti, di smart parking, smart light, eccetera, o anche di svilupparle in modo nativo sulla piattaforma, dove si possono sviluppare anche modelli predittivi, modelli di detection delle anomalie, di clustering, di routing, di analisi dei testi non strutturati, delle ricostruzioni del traffico, flussi di persone, indici di vario tipo, tipo i 15 minuti di siti index o derivati da sdg, eccetera. Tutte queste informazioni poi possono essere visualizzate con dashboard, le dashboard la piattaforma le mette a disposizione direttamente degli operatori, quindi gli operatori possono creare le loro viste, le possono customizzare, le possono clonare, le possono passare ad altri, possono lavorarci in modo collaborativo con un team, fino a creare applicazioni complesse di supporto alle decisioni, che hanno magari una business logic o server side o client side, anche importante, in relazione anche a tutta l'analitica, e ci può essere dietro. La piattaforma ha un supporto Living Lab, dove è possibile fare lavoro collaborativo, ci sono dei training course, ci sono molti scenari già fatti, che vi spiegano, sono più di una cinquantina, che vi spiegano più o meno come è stata utilizzata in vari contesti. La piattaforma è completamente open source, è una piattaforma ufficiale, FIWARE, è una piattaforma, è soluzione, piattaforma ufficiale FIWARE, ha superato i penetration test, i vulnerability test, fatti da aziende internazionali della sicurezza, come Tales, Edge DPR Compliant, ha un certo numero di certificazioni, non ve lo sto a leggere, e al momento ha una copertura sui dati piuttosto ampia, in Italia, ma anche in Finlandia, in Svezia, in Belgio, in Francia, principalmente ovviamente in Italia, in Grecia e anche fuori dall'Italia, perché è utilizzata in Australia, in New Zealand, in Colombia, in Cina, in Brasile, eccetera. Dal punto di vista tecnologico, la piattaforma si collega con i flussi di dati esterni tramite broker, non solo FIWARE broker, non solo NGSI, ma anche altre tipologie di broker, e tramite le IoT app, che sono dei node red, permette di acquisire dati di qualsiasi tipo, o di connettere dati e entità di qualsiasi tipo, che siano roba GIS, o roba BIM, o servizi esterni, o web scraping, o anche TV cam, ovviamente. Queste IoT app, che sono dei node red, possono essere eseguiti, messi in esecuzione on cloud, con container, oppure possono essere messi in esecuzione su Edge, quindi sul campo, su Raspberry, su Windows, su Linux e anche sulle telecamere AXIS, dove può girare il nostro software e creano una connessione mutuamente autenticata fra il canale, diciamo, la app e l'acquisizione del dato, o l'azionamento, con il sistema, un canale, diciamo, protetto e sicuro, anche per fare azioni event driven. Quindi è possibile, da tutto quello che è la parte dashboard e interfaccia utente, che troviamo qua sulla destra, mandare azionamenti tramite le app, con un canale protetto e event driven, direttamente sul campo, o passando da cloud. Tutta la parte dati, diciamo, lo storage, è composto da uno storage open search, che sarebbe l'astic search di Amazon, è un open source, e per quanto riguarda lo storage del dato non strutturato è time series, per quanto riguarda le relazioni semantiche, viene utilizzato virtuoso, inoltre si può utilizzare, viene da noi utilizzato il geoserver come distribuzione VFS, VMS, di mappe e di heatmap di vario tipo, si possono utilizzare anche altri GIS, e poi si usa il bin server per la distribuzione dei building 3D. C'è un tool che si chiama Data Inspector, che permette di navigare su tutti quelli che sono, quelli che noi chiamiamo l'high level type, i tipi di dati che ci sono nel sistema, e magari ve li elenco dopo, e quindi è uno strumento di inspection. Poi ci sono sulla destra un elevato numero di strumenti per creare appunto le visualizzazioni degli strumenti applicativi. La parte di Data Analytics è una parte che può essere sviluppata o diciamo sui vostri calcolatori, o direttamente online, in Python o RStudio, e vi permette di sviluppare qualsiasi soluzione di ricerca operativa, di statistica, di machine learning, intelligenza artificiale, splenable AI, anche stream processing sul video, o quant'altro. La parte di visualizzazione mette a disposizione dei tool di base, come il dashboard builder, quindi un tool per la creazione delle dashboard, un tool per la creazione dei sinottici, e poi vedremo cosa sono, un tool per la gestione dei dati complessi, la gestione dei servizi sulle mappe, con service map, la parte di digital twin 3D della città, e poi un certo numero di strumenti, magari già fatti, che riguardano appunto lo smart parking, oppure la gestione dell'illuminazione, o la predizione della manutenzione, quindi un sacco di strumenti, di scenari che abbiamo già in piedi, che vi possono permettere di creare le vostre dashboard, anche con una logica, una business intelligence dietro, una business logic dietro. Allora, andando avanti un po' più velocemente a questo punto, gli standard sono quelli riportati in questa slide, siamo compatibili con moltissimi standard, a livello IoT, a livello di formato, a livello di database, di canale di acquisizione, e ogni giorno si aggiungono nuovi standard, quindi non penso sia un problema, ma diciamo l'interoperabilità è massima. Abbiamo anche varie certificazioni che sono riportate sotto. L'acquisizione è sempre bidirezionale, a parte per canali dove la bidirezionalità non ha senso, tipo il canale satellitare, quindi acquisiamo e produciamo dati, anche verso GIS, produciamo dati anche in standard WFS, WMS, e l'obiettivo appunto è quello di dargli, diciamo, dell'informazione, di estrarre informazione da questi dati e di produrre poi degli strumenti visuali per poter avere una visione esatta della città e anche un supporto alle decisioni. Dietro c'è questa ontologia, l'ontologia è license free, l'ontologia ovviamente produce una rappresentazione della città attraverso link e token data, se il dato è aperto, per i dati aperti è possibile accederci come link e data, per i dati protetti ovviamente non viene permesso, quindi è querabile, si può fare delle query in Sparkle, per chi li piacciono queste cose. tutta la parte di IoT app viene sviluppata, si può sviluppare tramite... scusate... è un regalo di Barcellona... tutta la parte di... di business intelligence o di data, di trasformazione dati, di integrazione, di gestione della business logic, di gestione anche del data analytic, viene fatta tramite Node.js, sostanzialmente, in cui noi abbiamo sviluppato dei microservizi, che sono circa 180, ne vedete alcuni qua sotto, sono delle librerie, possono essere installate su tutte le installazioni in Node.js che ci sono. Node.js è un sistema di sviluppo IoT che è distribuito direttamente su Raspberry, per esempio, ma è molto, molto diffuso, se andate su Google, scrivete Node.js, ottenete 540 milioni di risultati, insomma, non è una piattaforma nuova, diciamo. è una programmazione visuale per blocchi e stream process, quindi vi permette una programmazione data-driven e anche protocolli push-pull di qualsiasi tipo. Una volta che il dato è entrato dentro, il dato entra dentro in piattaforma in modo automatico, quindi si fa un data shadow di tipo automatico, si può utilizzare il dashboard wizard, che è un tool che vediamo qui in piccolo, che vi permette di selezionare i dati e vedere quali sono le visualizzazioni possibili, oppure alla rovescia, selezionare un tipo di visualizzazione e vedere i dati possibili che potete visualizzare in quella modalità, quindi con pochi clic o sulla parte geografica o sul tipo di visualizzazione o sul dato, potete ottenere una creazione di dashboard. Le possibili dashboard le vediamo fra qualche slide. Recentemente abbiamo fatto anche una mappatura di tutto quello che abbiamo sviluppato in termini di data analytics rispetto agli SDG per capire come poter dare una mano per il raggiungimento di certi SDG con gli strumenti che abbiamo sviluppato, quindi non vado nel dettaglio, gli strumenti sono principalmente di predizione, di monitoraggio e di supporto alle decisioni. Tutta la parte di data analytics è rappresentata in questo tool qua che è poi stato distribuito anche a Barcellona e lo potete scaricare liberamente da questo link tramite questo QR. I data analytics sono focalizzati su mobilità e trasporti, comportamento utente nella città e social, ambiente e meteo, time series in generale, metodi per l'analisi semantica, qui diciamo andiamo più sul dettaglio, ma comunque i domini sono quelli classici dall'energia alla mobilità e trasporti, all'ambiente e al movimento e al comportamento delle persone, quindi all'uso della città. Quindi la parte di data analytics, il fuoco è molto sui modelli predittivi di traffico, di parcheggi, di comportamento delle persone, di manutenzione, di slittamento, delle frane, dell'NO2, del CO2 o quant'altro, la ricostruzione del traffico e i modelli anche di percolazione diciamo degli inquinanti all'interno della città tipo Noxio NO2 per produrre poi magari early warning o anche per produrre indici sulla città. Quindi abbiamo l'utilizzo che viene fatto, di solito è l'utilizzo tramite dei sistemi di intelligenza artificiale di Esplenable AI che sono elencati qua, non vado oltre per non metterci troppo tempo e facciamo anche integrazione sulla parte simulazione e modelli predittivi per arrivare poi a fare quello che è un motif analisi, cosa potrebbe succedere se bloccava una parte della città, come si potrebbe comportare il traffico, come si potrebbe comportare la diffusione degli inquinanti. Allora, questi sono gli high level type che noi trattiamo, quindi dai punti di interesse ai device, ai Fibers Data Model, Smart Data Model, noi siamo piattaforma ufficiale quindi abbiamo dentro anche la possibilità di distanziare le Smart Data Model ovviamente, tutta la parte GIS, i satellitari, i flussi del traffico, i traiettori, i elementi, le manutenzioni, il 3D, le mappe di riuscire e destinazione, i sinottici, che sono queste rappresentazioni grafiche dinamiche e tutto quello che potete immaginare di aver bisogno nella visualizzazione e nell'interazione grafica su web o su mobile. Qui alcuni esempi, 3D, interazione, mappe, diciamo sistemi di monitoraggio, diagrammi, staked, menu specifici, oppure BIM, sinottici, mappe di andamenti temporali, il drill down, oppure business intelligent tool o 3D. Si può cambiare la grafica con cui queste informazioni, questi dashboard vengono visualizzate. Ci sono ad oggi otto temi, li vediamo, alcuni di questi li vediamo qua, otto temi grafici, fra il quale anche per lo standard della pubblica amministrazione italiana e comunque si possono customizzare, potete farvi o possiamo farvi il vostro stile, come lo volete, per la visualizzazione delle dashboard. Al momento appunto abbiamo detto che siamo presenti in Europa in questo modo e anche all'estero, quindi questo non ve la riporto. Quando dico presenti, possiamo essere presenti o direttamente o le piattaforme gestite da noi oppure con installazioni che hanno fatto altri usando la nostra piattaforma open source. Oppure abbiamo fatto noi l'installazione e poi abbiamo fatto quello che si chiama Nangap e quindi viene rilasciata la gestione e passata la gestione a terza. Tra queste installazioni è anche l'installazione presso ISPRA JRC, quindi la Commissione Europea usa la nostra piattaforma all'interno degli impianti di ISPRA JRC che è il Joint Tracer Center a ISPRA sul Lago Maggiore. Questa è la control room di Firenze, noi siamo presenti sulla control room di Firenze dal 2017, vediamo un esempio della dashboard primaria, da quella dashboard si dipartono tutta una serie di altre dashboard e con un clic si passa alle altre viste che sono viste di secondo livello, di terzo livello, eccetera. Su Firenze ci sono appunto, il fuoco è principalmente mobilità e trasporti, incidenti, punti di interesse, IoT, flussi del traffico, ricostruzione del traffico, ma anche dati ambientali, protezione civile, covid, social media, flussi delle persone, turismo, eccetera. Negli anni abbiamo collezionato ovviamente milioni di dati e alcuni di questi dati vengono anche ribaltati poi sulle mobile app. sulla Toscana e sulle questioni del traffico siamo su Firenze, Pisa, Livorno, Modena e Santiago de Compostela per fare la ricostruzione del traffico e il monitoraggio, quindi dai sensori del traffico facciamo la ricostruzione densa, quindi ogni 20 metri, ogni 10 minuti facciamo una stima del traffico in tutti i segmenti stradali, non solo nei punti dove viene fatta la rilevazione tramite sensori di qualsiasi tipo e quindi questa è la... facciamo anche predizione del traffico e un vuotif analisi, per esempio se si blocca una parte della rete stradale andare a rifare un routing dinamico per capire come succederà, come si potrà sviluppare il traffico oppure come si può semplicemente andare dal punto A al punto B con il mezzo pubblico e il mezzo privato nella città. Andiamo velocemente, questo è un altro esempio di modello predittivo sull'NO2, sul NOx, N1, NO2, sulla base dei flussi del traffico andare nelle 24 ore successive al giorno di stima andare a vedere come l'inquinamento si propaga all'interno della città. considerando la struttura anche degli edifici, la quantità di traffico, la direzione del mento, eccetera. E questo è presente su Firenze e Pisa e Livorno fatto da noi. Questo è il Digital Twin che abbiamo presentato, vediamo se questo è il video oppure solo forse non è il video, questo è una slide, questo è il Digital Twin che abbiamo presentato ora e questo invece dovrebbe essere un video, eccolo qua, presentato a Barcellona. Qui abbiamo la rappresentazione 3D globale di Firenze che è stata fatta non con un intervento massivo diciamo di scannerizzazione l'IDAR di tutta la città ma siamo partiti dall'estrusione degli edifici, dallo sfruttamento delle ortomappe per acquisire i pattern e posizionarli sugli edifici, l'inserimento di informazioni come i flussi stradali con queste creste colorate che vedete sullo sfondo, tutta la parte anche di heatmap che si possono visualizzare sotto gli edifici e l'orientamento dei tetti è stato ricavato da dati LIDAR ma non i pattern ci sono anche pattern sulle facciate che sono stati acquisiti direttamente tramite campagne fotografici a piedi insomma, fotografi professionisti. Qui vediamo appunto il flusso del traffico rappresentato in questi 3D si possono vedere anche dei pillar 3D che rappresentano come altezza l'intensità di qualche variabile ecco ora le vediamo in questo caso del traffio ma potrebbero essere qualsiasi altra variabile e poi si possono visualizzare vediamo anche qui le animazioni delle heatmap sul terreno riguardo alle predizioni oppure all'andamento in questo caso del NOX questa è una visualizzazione full screen che vi permette di vedere la città diciamo dall'alto allora viene tenuto conto anche del terreno quindi dell'elevazione dei building rispetto al ground zero quindi la città non è piatta ma abbiamo visto che si vedeva i profili delle colline intorno a Firenze e quindi anche tutto quello che è il posizionamento degli edifici e il posizionamento dei flussi del traffico ovviamente segue l'andamento del terreno e quindi è abbastanza realistico la visualizzazione io andrei avanti questo video è comunque accessibile anche su su YouTube e questa è un'altra attività che abbiamo fatto ad Anversa per il monitoraggio delle persone tramite Pax Counter in questo caso quindi sniffing Wi-Fi vado un po' più veloce questo è un monitoraggio sulla parte Covid quindi l'abbattimento di alcuni aspetti di traffico ambiente sulla base dei dati del lockdown questo invece sono le predizioni sull'NO2 a lungo termine sull'indicatore della Commissione Europea per quanto riguarda l'NO2 medio che viene quasi sempre sforato da Firenze ormai da 2014 e quindi c'era questa necessità questo è uno smart parking questo invece è una gestione dell'illuminazione in Svezia questo è Pondugard per esempio per quanto riguarda il monitoraggio flussi persone anche nei riguardi dei KPI e dell'apprezzamento social media che può avere questi servizi turistici questo è sempre Pondugard con i modelli previsionali delle presenze sull'area turistica questo invece Dubrovnik sempre monitoraggio dei turisti e modelli previsionali delle presenze nella città vecchia questa è Valencia abbastanza simile questo invece è Patra in KPI e analisi diciamo dei flussi anche in questo caso questo invece è Helsinki a parte diciamo informazioni sugli ambientali modelli previsionali sulla diffusione del PM10 e anche mappe di origine e destinazione derivate da dati acquisiti da applicazioni mobili questo è un impianto invece chimico dove abbiamo installato il sistema facciamo in questo caso monitoraggio dei dati ottimizzazione della produzione e anche gestione della manutenzione e manutenzione predittiva varie viste con sinottici o con sistemi di business intelligence siamo presenti lì da diversi anni e quindi qui vediamo il digital twin in questo caso è locale quindi va a guardare il singolo il singolo componente dell'impianto chimico come è collegato e al momento in cui il modello predittivo ci dà per esempio una probabilità di guasto di una certa parte viene indicato direttamente anche sul modello 3D quale potrebbero essere le parti da dover andare a sostituire o da guardare tramite questi modelli questo è lì in Altair questo impianto chimico facciamo anche monitoraggio delle analisi che vengono fatte sempre tramite l'architettura sempre tramite IoT App quindi acquisizione dati e direttamente per mandare le le squadre diciamo di intervento e e per allorché ci sia qualche problema di qualità di produzione vengano mandate le notifiche direttamente tramite telegram questo è quello che poi aveva scaturito la presentazione precedente anche diciamo l'aggancio con Axis perché con Axis abbiamo abbiamo sviluppato un sistema di di analisi appunto del video che può essere installato o direttamente come plug-in all'interno delle telecamere Axis o come stream e come stream processing su delle appliance o se processi in cloud per fare il detection e quindi la classificazione delle persone che camminano nell'area pedonale quindi persone carrossine o bike prima di tanto si vede che passa qualcuno con un passeggino e quindi fa il conteggio in tempo reale produce un'informazione precisa di quello di quello che è di quello che sono i flussi qui era davanti a Palazzo vecchio vedete queste due telecamere Axis che sono bianche ma noi le abbiamo ovviamente ricoperte di nero perché ce l'ha chiesto ovviamente il municipio e queste sono altre analisi in questo caso sul lago di Garda o per Italfair sulle ferrovie o diciamo altre soluzioni che abbiamo sviluppato per esempio su l'allarme i bottoni di allarme per l'assistenza o agli anziani o per l'aiuto che possiamo che può essere fatto diciamo verso un sistema di controllo e un operatore che può ricevere una richiesta tramite per esempio un click su un gioiello indossabile insomma un'applicazione di smart questo è uno smart waste questi sono sistemi sinottici per il controllo di autogravi in ambito industriale insomma come avete capito noi lavoriamo molto sulla parte dell'acquisizione dati trasformazione dati e la piattaforma è questa dietro a questo a quelle che avete visto ci sono degli strumenti tecnici che vi permettono di gestire una volta installata la piattaforma di avere per ogni tipo di dato di avere un pannello che vi dice quali sono per ogni device quali sono i valori qual è la salute del device qual è il processo dell'approdotto qual è l'immagine qual è la licenza quali sono gli utenti di riferimento dove è stato fatto quando si è guastato e se si è guastato insomma avete un modello digital twin di gestione di quello che è il vostro la vostra anagrafica di tutto il dato che entra dato eterogeneo che entra dentro la piattaforma e fino a arrivare alle foto che potete caricare riguardo all'installazione alle licenze da dove avete presso i dati a chi sono le persone di riferimento per fare poi la manutenzione eccetera eccetera quindi potete poi sviluppare dei data analytics oppure chiedere a noi di svilupparvi ovviamente i data analytics tra questi forse avete ricevuto anche da Enel X l'accesso alla piattaforma alla loro piattaforma nazionale per esempio il modello che Enel X usa per i 15 minuti di siti index l'abbiamo sviluppato noi quindi il 15 minuti index è un indice vi da è composto da 13 sotto indici che vi dicono diciamo area per area su tutto il territorio nazionale vi dicono come siete posizionati in confronto ad altre aree in Italia riguarda questi 13 indicatori che sono appunto la mobilità dolce la mobilità veloce i servizi gov la salute le abitazioni la cultura la parte educazionale la sicurezza eccetera eccetera quindi queste informazioni poi impattano su alcuni di quelli degli SDG su una decina di quelli SDG in modo da capire magari se il vostro servizio servizio che offrite è orientato a una città a 15 minuti cioè se i servizi che distribuite in ogni area sono servizi facilmente raggiungibili nell'arco dei 15 minuti a piedi da ogni punto della città quindi questo è una visione diciamo di strategia dietro ci possono essere poi invece sistemi di data analytics più complessi che si basano principalmente sui modelli predittivi modelli predittivi a breve termine o a lungo termine per produrre raccomandazioni o prescrizioni a supporto delle strategie o a supporto dell'early warning prima di arrivare alla what if analysis quindi analisi per esempio della domanda e offerta di trasporto oppure modelli di supporto alle decisioni per capire se vi si blocca una parte della città come i traffichi si ridistribuisce e vari aspetti ora questa è una registrazione del video di una giornata a Firenze ma insomma forse questo si può fare a meno di di vederlo qui vedete vediamo ne qualche secondo qui vediamo a luna la notte come si comporta il traffico a Firenze la mattina tipicamente appare qui nella zona della di Firenze Nord e poi anche su Firenze Sud qui è le 4 la notte appena arriva alle 7 la mattina il traffico aumenta e quindi questo è un tranquillo venerdì del 2018 questo servizio è in piedi da parecchio tempo a Firenze che vi produce appunto la ricostruzione del traffico la ricostruzione del traffico fatta attraverso i dati dei sensori è molto più precisa rispetto a quella che potete acquisire per esempio vedere da Google o da altri strumenti che si basano magari sono strumenti di simulazione statistica tipo sumo eccetera hanno delle errori estremamente elevate ok quindi queste sono per esempio analisi predittive di comportamento all'interno della città tramite dati wifi comprensione del comportamento utente tramite dati di mobile app modelli di predizione tramite social media modelli di predizione sulle frane vado un attimo veloce perché sicuramente ci avete molte domande e come si lavora con la data analytics si lavora in questo modo cioè se voi avete personale che può sviluppare data analytics può entrare in un'interfaccia che è un python jupiter hub oppure un rstudio server sul quale può sviluppare o sul suo pc o online dei processi che possono poi essere trasformati in automatico in micro servizi e vengano messi in esecuzione un cloud in container e quindi il data analytics diventa un container facile da poter istanziare anche più volte potete poi condividere tramite una sorta di marketplace le risorse che avete sviluppato sia che siano dashboard che siano IoT app o quant'altro e quindi il vostro team di sviluppatori può avere avere anche un'area in cui questi dati si possono si possono sviluppare se volete installare Snap4City si può installare tramite dei modelli che vanno da una macchina virtuale fino a una soluzione molto scalabile con n macchine virtuali e le macchine virtuali contengono al loro interno dei docker esiste un tool liberamente accessibile che vi permette di costruire il drappolo dei docker compose da caricare sulle singole VM in modo che tutta l'installazione avvenga in modo automatico viene anche fornita una mappa di tutte le relazioni tra i componenti eccetera eccetera quindi potete specificare per esempio questi x y z i parametri dell'installazione cioè quante IoT app quanti broker qual è la dimensione diciamo dello storage eccetera e comunque anche se partite da una soluzione micro x poi la potete fare evolvere verso soluzioni più ampie e scalabili semplicemente aggiungendo componenti perché tutto è modulare questo è per esempio un esempio di di data city small che è fatta con un certo numero di macchine virtuali poi tanto small non è però riferimento a sistemi molto più ampi di solito quasi tutti partano da una soluzione micro x mettiamo 10 IoT app e poi dopo le altre componenti vengono aggiunte in secondo in secondo momento altre informazioni le potete ottenere o da il training course che è accessibile su questa pagina web quindi vari slide tipo queste però queste sono un overview molto stringata mentre sul corso si spiega passo passo oppure tramite i booklet che sono accessibili qua sulla città sull'industria sulla parte analitica oppure anche su un documento abbastanza corposo di oltre 100 pagine che presenta tutta la piattaforma tutte le possibilità tutto il glossario tutta la 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 terminologia che noi usiamo tutti i riferimenti le reference eccetera che abbiamo ed è liberamente scaricabile esiste anche un altro documento che è il development life cycle che vi spiega come poter sviluppare qual è diciamo il ciclo di vita di una di un'applicazione smart sviluppata su piattaforma snap for city che e vi da vi dice quali sono passo passo dall'analisi allo sviluppo all'implementazione al test alla validazione la messa in produzione eccetera quali sono gli strumenti da utilizzare e le verifiche da poter fare infine anche un overview sulla piattaforma la relazione nostra con Fiverr pubblicato anche direttamente da Fiverr e non da noi stessi ok scenari li potete accedere qui a questa a questa pagina web ce ne sono tanti alcune sono pagine web altre sono pdf liberamente scaricabili e questo è il nostro track dal 2013 tutti i pallini corrispondono a progetti e ad action e implementazioni fatte questo è dal 2013 fino al 2019 e questo è 2020 21 e 22 basta infine